Gossipitavip, se lo sussurra, lo svegliamo. Porto con me un bagaglio di rimpianti che pesa come un viaggio non compiuto in America, un viaggio che avrei potuto fare per starle più vicino. Avrei potuto dirle più spesso ti voglio bene, immergermi nelle sue risposte divertite quando chiedeva che te serve, confida all'ansa Loredana Beltè, trionfatrice del premio della critica Mia Martini alla 74 a edizione del Festival di Sanremo. Essere la sua sorella è stato un privilegio, un dono incredibile. Mimi è sempre qui, non c'è un momento in cui non sia con me, racconta Loredana. L'artista sottolinea che il suo rimpianto maggiore riguarda il fatto che Mimi non possa apprezzare il suo look di quest'anno. Questo è stato un festival speciale, e volevo essere impeccabile. Mimi avrebbe applaudito vedendomi vestita così. Basta con sti stracci. Mettiti qualcosa come si deve, mi ripeteva sempre, e stavolta ho ascoltato il suo consiglio, spiega Bertè. Con un sorriso, Loredana aggiunge, quest'anno mi sento sicura di me stessa, la mia autostima è salita. Pazza, la canzone in gara a Sanremo, è un pezzo estremamente autobiografico, un inno alla pace interiore dopo tanta sofferenza. Di solito non guardo mai me stessa in televisione, perché non mi piaccio, ma forse quest'anno farò un'eccezione. C'è qualcosa di diverso nell'aria.